Altaïr, sei tornato? Ehi, piacere! Mi fa piacere vederti illeso, dai. Immagino che la tua missione sia riuscita. Il maestro è nella torre? Non è esattamente... Sì, sì, sepulto fra i libri come sempre. Di sicuro ti aspetta. Grazie, fratello. Salute e pace, Altaïr. Altrettanto. Grazie altrettanto, ti dirò. Non è andata proprio bene. Non esattamente come voleva il maestro. Che ora scopriremo chi sarà. Dunque, ho fretta. Andiamo. Ho messo tutti in mezzo. Tutti in mezzo, sì. Io sbaglio sempre strada, poi, tutte le volte. Io devo andare alla parte opposta. Non devo andare di là, dove vado sempre. Mannaggia, la misira ladra. E vabbè, il mega castello qua abbiamo. Enorme. Orfamile. Guardalo, mi si erge in tutta la sua grandezza. E' bene. Eccolo di ritorno. Ma Bass. Dove sono gli altri? Ma Bass. Li hai anticipati sperando di essere il primo a tornare? So che detesti condividere con altri la gloria. Il silenzio è solo un'altra forma di assenso. Non hai niente di meglio da fare. Recco ordini dal maestro. Ti attende nella biblioteca. Sbrigati, su. Senza dubbio sarei ansioso di leccargli gli stivali. Un'altra parola e ti punto la lama alla gola. Più tardi ne avremo tutto il tempo. Fratello. Lui sa Bass e io mi alzo. Ok, era brutta. Però ci stava. Ma Bass e mi alzo. Va bene, Bass la smetto. Andiamo dal signore di... Dai. È un onore. Dai. Ok. Andiamo dal signore di tutti gli assassini. Il maestro attende all'interno. Mi fa piacere. Vale. Sì. Sono morti tutti. Confido che tu abbia recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. E vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora e tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni. E ora sei l'anno. Io... Non parlare! Non un'altra parola. Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremmo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Ok, l'ho anticipato. Dove sono Malik e Kadar? Malik e Kadar? Morti. Sì, non posso dirlo io. Non mordi. Malik? Io vivo ancora. E tuo fratello? No! Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? C'ha vanno bene. Questo si poteva evitare. Vero. E mio fratello sarebbe ancora vivo! Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Ma zia si è messo male col braccio. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Aia! Maestro! Siamo sotto attacco! E chissà come noi! Il fattuto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masiap! Dunque cerca lo scontro! Molto bene! Non lo deluderò! Vai! Informa agli altri! La fortezza deve essere pronta! Quanto a te Altaïr! La nostra discussione dovrà attendere! Raggiungi il villaggio! Non nienta quegli invasori! Scacciali dalla nostra casa! Sarà fatto! Yes sir! No, non devi salire Non è il momento di fare il parkour tesoro Vabbè Beh si chiamava lui, non mi ricordo Dica Ok Zubdo Corri È il momento di fare casino Facciamolo bene È il momento di fare casino Chi ha capito a chi mi riferiscono? Forza, forza che ci arrivate No Eh no, non è un assassino Si ha tutti assassini Per la cronaca Accidenti, è veloce È veloce, ero ferma Per informazione tua Per tua informazione No, fratello Allora È morto No, sei tu, quello morto E tu Quello morto, te lo ho detto Io sei tu, quello morto Signora Non devi mettersi in mezzo Quando io sto andando a uccidere la gente Eh Sì Ma cosa va benissimo Uccidere la gente Ok È il mio sport preferito Fuori Doi Ma Tu hai ucciso mio fratello Non mi chiedere la gente Ok Allora Muoreci Sì Lo so come Meglio una Oh, lo hai a trasferciare Meglio una morte in duro Tipo questa Però se voglio Vi far soffrire un po' Vabbè Lo so Vi stessi Non ti può fare Allora Signori Io devo andare a combattere Mettetevi in mezzo Mentre sto correndo Per favore Grazie Molto gentili Qui c'è qualcuno Da aiutare Assassino Fermatelo Qui siamo tutti Assassino Ti ripeto Coso Ancora Allora Eh Sì Non ce l'ha bisogno Di fare sto mega balzo Fermate l'attacco E tornate a Mazziaf Ordine di Al Mualim Al Mualim Bene Il maestro è Al Mualim Avanzamento rapido Un ricordo più recente La Mini Eh scusate Sono di fretta Stava scappando Vieni Al Tair Tu dici? Al Mualim non ho ancora finito con noi Dove sei? Ah Dove stiamo andando? Lassù Abbiamo una sorpresa per i nostri ospiti Fai esattamente come me Vedrai che presto capirai tutto Dica Vai su quella piattaforma Al Tair Ok Andiamo a morire Sono troppo giovane Mangia fuori d'erbe Pagani Rendetemi ciò che mi avete rubato Non ne avete diritto Roberto Ritiratevi Prima che sia costretto ad assottigliare i vostri ranghi È un gioco pericoloso il vostro Vi assicuro E non è un gioco Ebbene sia Portate l'ostaggio No No Annaggia Il villaggio è in rovina E le vostre scorte non sono infinite Quanto impiegherà la vostra fortezza a cadere? Che faranno i vostri uomini Quando i pozzi saranno secchi E il cibo esaurito? I miei uomini non temono la morte L'accolgono con gioia Con le ricompense che reca Bene Allora li accontenteremo Seguimi E senza alcuna esitazione Ok Mostrate a quello stolto Che significa non avere paura Andate con Dio No Allora No Questa Questa cosa non si dice Questo è Indurre qualcuno al suicidio Non è una cosa bella da fare Ok Non è una cosa bella da fare Già Mi devo suicidare Non mi dire Suicidati Non è bello Ok Ok Non è bello Non è bello Va bene Stamarenda Antia Bonda crudele O Come Anima